In questo momento, ma l'incendio è ancora in atto, sicuramente ha superato anche con una certa abbondanza i 100 ettari all'interno del Parco Nazionale e una quota parte anche nella riserva naturale integrale di Tirone Alto Vesuvio che è una zona ad ulteriore protezione del Parco Nazionale, quindi è un danno molto consistente però l'incendio è ancora in atto, di conseguenza potrebbe essere ancora superiore.